Il primo tempo tra New Orleans contro Bad Boys, quarta di finale, risultato sul 2 a 1 per Bad Boys, però da ricordare i due gol di vantaggio per i Bad Boys per il ritardo dei New Orleans. Ecco, ben l'acqua. Barbuto, chiude. Siamo in compagnia di Simone Salvarezza. Simone Salvarezza. Simone, allora come no di questa partita? Inizia da pochi minuti, comunque sono stati bravi i New Orleans a non subire gol nei momenti. Sono partiti in quattro inizialmente, con due gol di svantaggio. E' Prisco Mattia, subito accorciato le distanze. Però le responsabilità sono anche un po' di Montanari, il tiro era centrale, l'ha colto impreparato. E' questo. Vediamo Alibert, che comunque sta svariando. Fino a questo momento è il migliore dei suoi. Bevi l'acqua. Bevi l'acqua. Palla per Prisco. Palla per De Simone. De Simone. Palla dietro per Mario Savarese, il capitano, che prova il lancio lungo per Prisco. Giusto? Eh, in opera. Dunque, è meta. Sì, è vero, ci sono molte persone che addirittura. Vai, vai, vai. Prisco. Prova il pallone per Bevi l'acqua, ma non riesce. Riccardo, Riccardo. Minna. Prova il pallone per Spalice. Tacco di Savarese per De Simone, che riesce ad andare a saltare. Prova il tiro alla rete. De Simone. De Simone. Pareggio dei... Al quinto minuto. Dei New Warriors. Stabilita la parità. De Simone. Una bella impressione fino a questo momento, De Simone. Prova il tiro. Aliberty, ma come dobbiamo dire, New Warriors sono entrati subito, con una buona mentalità in campo, mentre i bad boys forse sono troppo dormienti. Palla per Aliberty. Aliberty prova il dialogare con Serrao, ma grandissima chiusura di Caruso. Aliberty per Caruso. De Simone. Prova il passaggio filtrante per Prisco, ma non riesce ad impattare con il pallone. Montanari parte per i suoi. Palla per Serrao, ma viene anticipato da De Simone. Palla per Bevilacqua e prova il destro di prima intenzione, ma non riesce a segnare. Serrao. Per Aliberty. Aliberty prova ad andare via. Prova il destro della rete. Grandissimo gol di Aliberty. Grandissimo diagonale. Bellissimo. Grandissimo gol. Bevilacqua. Caruso. Non lo so, sto pensando. Ci sono da spade. Ciao, mamma. Come ciao? Ce n'arrivole. Vabbè, dò un saluto anch'io. Ciao, mamma. Bevilacqua. Palla per De Simone. Passaggio filtrante per Bevilacqua che non riesce ad agganciare. Caruso. Aliberty. Contropiede per Bad Boys e Spalice. 4 a 2. Bravissimo Spalice. Primo piano meritatissimo. Ecco che ci saluta. Prisco per Bevilacqua. Bravissimo Aliberty a chiudere. Desimone. Per Savarese. Prisco. Ancora per Desimone. Il cross. Il graal. Traversa di Prisco. In semi rovesciata. Mamma mia. Sfortunatissimo il fuoriclasse. E New World. Cambio. Il caruso. Prisco. Prova a saltare Serrao. Non ci riesce. Palla per De Simone. E carica il destro. Ma non riesce a tirare. Non è un soldi. Spalice. Diamo l'ultima azione. Poi diamo il collegamento. Prisco. Ma ma chi è mai su di un ralazzo. Prova il destro. Bevi l'acqua. Bevi l'acqua. Contropiede. Sbaglia. Contropiede per il bad boys. Il tiro di spalice. Ma si perde sul fondo. Chiudiamo il collegamento. Ci rivediamo dopo per interviste in biori in campo. Il saluto da Salvatore. Pessimo. Il saluto da Salvatore. Allora. 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 Grazie a tutti.